Ciao a tutti, volevo mandarvi un messaggio di augurio e qualche semplice parola di riflessione, un augurio a tutti i papà nel celebrare la festa di San Giuseppe. È vero che è da tantissimo che non celebriamo nessuna messa, quindi celebrare è un po' difficile e forse è difficile anche fare festa in un momento in cui tante persone soffrono e forse tra le tante persone ci sono anche tanti papà, soffrono perché malati, soffrono forse perché sono in quarantena, soffrono perché dediti ad aiutare, perché magari medici, perché magari infermieri o amministratori, insomma siamo vicini a loro in modo particolare a tutti i papà e soprattutto a quelli che stanno curando i loro figli a casa, mentre magari cercano di lavorare. È un ricordo e un pensiero anche a tutti i papà che sono in cielo, perché anche dal cielo possano continuare a custodire. Ecco la parola che voglio dedicare e lasciare è proprio la parola del custodire, papà come davvero dei custodi grandi. Ecco sono arrivato qui all'altare di San Giuseppe, l'altare che c'è nella nostra chiesa di Sovico, ecco mi siedo qua così alle spalle c'è il quadro di Giuseppe. Voi sapete che nella Bibbia ci sono diverse storie che parlano di Giuseppe. Giuseppe nell'Antico Testamento è un adolescente di 17 anni, un grande sognatore, aveva dei fratelli che però non gradivano un po' i suoi sogni e per questo l'avevano poi venduto, l'avevano preso, venduto e Giuseppe si trova schiavo in Egitto. Ma Dio che è capace di scrivere dritto sulle righe storte della storia degli uomini fa di Giuseppe il primo ministro dell'Egitto e farà poi incontrare Giuseppe con i suoi fratelli che attanagliati dalla carestia si rifugiano in Egitto e lì Giuseppe li custodisce, custodisce l'inizio di un popolo, una discendenza poi numerosa, un popolo che diventerà numeroso proprio nella terra d'Egitto. Ecco il primo Giuseppe, un adolescente, un grande sognatore, custode dei suoi fratelli, gli stessi fratelli che l'hanno venduto. E poi la seconda e la terza storia invece si trova nel Vangelo. Ci sono due Giuseppe. Il primo Giuseppe è appunto Giuseppe lo sposo di Maria, quello che vedete qui nel quadro, che custodisce Gesù bambino, gli inizi della vita di Gesù, gli inizi abbastanza tra virgolette pericolosi perché deve scappare ancora in Egitto, questo richiamo dell'Egitto. Deve custodire insieme anche la madre Maria e poi custodirà Gesù per 30 anni, 30 anni dei 33 della vita di Gesù, insomma non pochi, non solo gli inizi, anche il cuore in cui Gesù cresce. Custode quindi della vita di Gesù. Tra l'altro lui non era un grande sognatore eppure Dio gli si rivela in sogno a Giuseppe. Infine il terzo Giuseppe è alla fine del Vangelo. Di lui si sa solamente il paese d'origine, Giuseppe d'Arimatea. E allora questo Giuseppe, che ha il coraggio di andare da Pilato a chiedere il corpo di Gesù, è custode del corpo di Gesù, un corpo martoriato, un corpo offeso, un corpo abbandonato, un corpo crocifisso, un corpo piagato, come è quello di tante persone. Non solamente in questo momento dell'epidemia, ma anche sempre, un corpo sofferente. E forse la sofferenza e la fatica dei corpi può diventare anche la medicina dell'anima, perché nella sofferenza si può crescere e il Signore ci fa crescere. E allora ecco, pensando un po' a questi tre Giuseppe che custodiscono gli inizi o la fine anche della vita di Gesù, volevo augurare davvero a tutti i papà di essere custodi. Voi siete i custodi della discendenza della vostra famiglia, siete custodi degli inizi della vita dei vostri figli, inizi dove vi chiedono tante cose, vi chiedono di essere accanto, vi chiedono di accompagnarli, oppure qualche volta vi chiedono anche magari di accompagnarli un po' a distanti. Per voi, come per le loro madri, è una sofferenza. E poi custodi anche del corpo, di tutto quello che ha bisogno il nostro corpo, soprattutto nei momenti degli imprevisti, delle difficoltà, delle sofferenze. Il corpo da custodire anche quando appunto viene assalito dalle fatiche. Però anche la bellezza di custodire la vita in tutti gli attimi, in tutti gli istanti, soprattutto insegnare la vita. Allora in questi giorni in cui siete stati tanto con i vostri figli, continuate ad esserlo anche nella forma della preghiera. Proprio nella festa di San Giuseppe, la Chiesa italiana ha chiesto di ritrovarsi tutti spiritualmente, proprio alla sera in preghiera, alle ore 21, per recitare il rosario, per affidarci appunto alla Madre del Cielo. E allora vogliamo farlo. Ecco, partecipando tutti insieme, partecipate con i vostri figli. Avete tante persone a cui dedicare questa preghiera, avete tante intenzioni. Innanzitutto per voi, per il vostro cuore e per la vostra vita, per le vostre capacità di essere dei veri padri. Auguri a tutti i papà, ma auguri a tutte le famiglie e a tutti i figli.